da dove vuoi cominciare dal principio il reggae è una musica popolare voglio che le persone si riuniscano lo sai che sei una superstar non sono una superstar c'è una guerra in corso non si può separare la musica dal messaggio e qual è il messaggio? pace babba hanno cercato di uccidere te e tua moglie e ora torni in giamaica per partecipare a un concerto per la pace? non temi per la tua vita? la mia vita non è importante per me la mia vita è per le persone credi davvero che questo mondo ce la farà? certo non c'è altra scelta è la fonte della tua forza One love, one heart, one destiny